Sette tipologie di servizi richiesti nel copywriting che possono farti guadagnare tanti soldi, soldi. Cominciamo, allora, innanzitutto io sono Corrado Fontana, ti do il benvenuto in questo video e oggi voglio mostrarti quali sono sette tipologie di servizi nel mondo del copywriting che possono farti guadagnare tanti soldi. Io sono l'esperto numero uno in Italia per il mondo dell'iTicket, significa per la vendita al prezzo più alto possibile nel settore in cui opera, quindi qualsiasi settore ti mostro come fai a vendere di più. E oggi parliamo di copywriting perché il copywriting fa parte della vendita, ossia l'arte di scrivere, la capacità di scrivere, che è il copywriting, non automaticamente mi dà la possibilità di generare denaro o di generare grandi guadagni. La maggior parte delle persone che sa scrivere non guadagna tanti soldi, guadagna molto poco, è molto povera. Perché? Perché non ha capito quali sono i servizi che invece permettono di ottenere i migliori guadagni, i maggiori guadagni. Oggi vediamo sette servizi, nello specifico, che possono farti capire dove investire tempo se ti piace il copywriting, se vuoi imparare l'arte del copywriting. Cominciamo con il primo. Servizio numero uno, email. Allora, è sempre maggiore l'utilizzo di social network, di piattaforme che permettono alle persone di interagire direttamente, ma ad oggi l'email è ancora uno strumento potentissimo per generare vendite. Molti, hanno purtroppo molte aziende, hanno un grande bacino di email, cioè hanno una lista contatti di vecchi clienti, vecchi preventivi, quindi vecchi potenziali clienti, leads accumulati, che non lavorano, che semplicemente gli mandano magari un email una volta all'anno per gli auguri di fine anno, per gli auguri di Natale, ma non sfrutta per generare liquidità, non sfrutta per generare ulteriori vendite. Magari spendono un sacco di soldi in pubblicità per acquisire nuovi clienti, ma non sanno come sfruttare la rubrica che hanno per generare nuove opportunità di vendita attraverso l'email. Ecco, un copywriter che dedica tempo ad un progetto, cioè che si specializza nella capacità, cioè nello scrivere email di vendita, quindi che possano generare vendite, sicuramente ha grandi opportunità di guadagno. Perché? Perché ragiona non tanto su quello che scrive, ma ragiona sul risultato che deve portare all'azienda. Ricordati sempre, un copywriter bravo non è quello che conosce tutte le tecniche e conosce le teorie del copywriting. Un copywriter bravo è quello che pensa al risultato del suo cliente e migliora quel risultato. E nel mondo della vendita, più tu ti rendi conto che l'azienda, potenziale cliente o cliente, ha necessità di sviluppare vendite, più li aiuti a realizzare questo obiettivo e più guadagni tu potrai realizzare per te stesso. Progetto numero due. Optin Pages. Sono tutte quelle pagine di conversione che permettono di scaricare PDF, di scaricare documenti, schede tecniche, che possono essere integrate nei siti delle aziende, ma che sono fondamentali perché permettono di acquisire le email. Cioè, è lo strumento che mi permette di arricchire la rubrica. Se con la capacità di scrivere email io genero vendite, con il miglioramento della pagina di Optin aumento la mia lista, quindi aumento la rubrica di contatti a cui scrivere per generare ulteriori vendite. Ora, immagina di poter avere l'abilità e la specializzazione di poter scrivere con un copy nelle pagine di Optin che magari oggi stanno convertendo al 5%. Immagina di poter raddoppiare quella conversione, portarla già al 10%, quindi raddoppiarla, permette di raddoppiare il flusso di ingresso di nuovi contatti. Anche questa è una grandissima opportunità. Terzo servizio, Sales Page. Cioè, per convertire nuovamente quei contatti che abbiamo acquisito in questa parte, che sono finiti appunto nella nostra rubrica, con la pagina di vendita, quindi la pagina di vendita del nostro prodotto o servizio, nell'ottimizzazione andiamo a migliorare chiaramente il risultato finale. generare vendite. Molti sono convinti che le pagine di vendita devono essere lunghissime, lunghissime, però troppo lunga diventa noiosa. Dobbiamo capire, un bravo copywriter deve capire qual è nella condizione, nel contesto dell'azienda, la migliore pagina di vendita, la migliore Sales Page, per ottenere il risultato finale più soddisfacente. e il risultato finale è chiaramente più soddisfacente, parliamo di risultato economico. Quindi, come posso pensare di sviluppare migliori vendite, una maggiore conversione di vendita per il mio cliente? L'abilità quindi di scrivere deve essere finalizzata a capire come posso scrivere una pagina di vendita, una Sales Page, che potrebbe essere per vendere un prodotto, per vendere un servizio, per vendere un appuntamento, come posso cercare di migliorare la percentuale di conversione e di risultato? Servizio numero 4. Prodotti di e-commerce. In questo caso parliamo di descrizione. Allora, immagina aziende che hanno e-commerce, quindi che lavorano o che guadagnano attraverso la vendita di prodotti attraverso l'e-commerce, la piattaforma di e-commerce. Saper migliorare la descrizione di questi prodotti rende più accattivante il prodotto, rende più accattivante la voglia di acquistarlo e quindi aumenta anche la percentuale di conversioni. Quindi, saper scrivere descrizione di prodotti che siano coinvolgenti, che siano magnetiche, che siano persuasive, permette di migliorare le vendite. E un copywriter che sa fare questo ha sicuramente la possibilità di guadagnare molti soldi. E chiaramente quando parlo di guadagnare molti soldi non sto parlando del classico sistema di conteggio delle tariffe che usano i copywriter, che è per parola, per pagina. Sto parlando di percentuali sui risultati. Più l'azienda vende, più realizza il suo scopo, più diventi prezioso o preziosa per loro per portare avanti quello scopo. E quindi ragionare su una percentuale sui profitti diventa molto facile. Perché è nell'interesse di entrambi ottenere questo, ottenere un miglior risultato. Servizio numero 5. Video sales letter o VSL. Cosa sono le video sales letter? Sono dei video che hanno una lettera di vendita che anziché essere di testo è raccontata. Le famose televendite, per esempio, non so, Chef Tony o altri che sono nei canali che magari abbiamo visto tante volte negli anni, quelle televendite sono delle video sales letter, sono delle lettere di vendita, quindi come la sales page ma su parte video, che potrebbe essere creata con delle slide che vengono lette da una voce, che può essere invece solo raccontata e ci sono delle animazioni, quindi magari una sorta di film muto ma con una voce narrante. Ecco, la video sales letter diventa a sua volta uno strumento potente dove poter generare guadagno ma perché si generano profitti per l'azienda finale. La video sales letter tra l'altro ha un duplice vantaggio. Perché? Perché io posso pensare ad una video sales letter per la pagina iniziale, la pagina di presentazione del prodotto o servizio e poi una video sales letter per la pagina di One Time Offer. Che cos'è la pagina di One Time Offer? Allora immagina di avere una pagina iniziale dove tu presenti una sales page che la mette sotto formato video, fai vedere il tuo video, no? Spingi la persona a compiere un'azione che è quella magari di registrarsi per saperne di più, per avere un preventivo, per poter fare un minimo di ordine magari, no? Questa persona una volta che ha selezionato il pulsante e la rimandi ad una seconda pagina dove proponi una One Time Offer cioè un'offerta, una tantum che vale solo per quell'istante in cui la pagina è aperta. E qui metti un'altra video sales letter dove metti un altro prodotto dove magari margini di più. Come McDonald's, McDonald's sul panino che offre un euro non sta marginando, va neanche a brecchiva, va in perlita. Guadagna, che cosa? Suglie, le parti che vende dopo, quindi sui prodotti che vende a parte, quindi le bibite, le patatine e tutto il resto, gelati. Bene, in questo caso nella video sales letter parte 1 ho la possibilità di generare profitti perché genero delle azioni e poi qui genero altri profitti perché posso vendere dell'altro. Servizio numero 6. Questo è molto potente. Numero 6. Facebook ads. E' inevitabile che siamo passati negli anni da una pubblicità magari cartacea o sulle varie piattaforme come radio, tv e vi dicendo a pubblicità sui social, soprattutto Facebook. Ora, le ads sono qualcosa che sta trasformando sempre di più il mercato perché è il modo più efficiente per trasformare un pubblico freddo in acquirenti. E chiaramente nel mondo delle ads ci sono tantissime tecniche perché le Facebook ads hanno anche delle difficoltà, cioè hanno... Allora, di pro, se tu crei una Facebook ads che funziona, ti dà la possibilità di generare dei profitti. Di contro, la Facebook ads arriverà a un punto in cui non funziona più, quindi comincia a costare sempre di più, comincia a non convertire più. Che cosa fare allora? Il copywriter abile, soprattutto il copywriter ai ticket, che è quello che formo io, nella classe che formo io, è in grado di capire come tenere sempre elevato la performance delle Facebook ads, quindi della pubblicità tramite Facebook attraverso un copy accattivante e in grado di convertire. Immagina di poter aiutare un'azienda a risparmiare soldi nella pubblicità per ottenere gli stessi risultati o aiutarli a guadagnare di più. Anche questo ti permette di guadagnare soldi perché attraverso le Facebook ads tu puoi ragionare in termini di email, puoi ragionare in termini di sales page, puoi ragionare in termini di vendita. Alla fine diventa un lavoro che ti porta più profitti su più fronti. Ed infine, servizio numero 7, video sales script. Che cos'è? Allora, il testo di un video sponsorizzato, quindi, è il testo di un video che permette chiaramente, è costruito con la finalità di vendere. Parliamo sempre magari in termini di televendita, però non una televendita statica come la video sales letter dove mi crea una landing page, dove crea opt-in e tutto il resto per una mia pagina, però parliamo magari di un video che potremmo sponsorizzare su YouTube, parliamo di un video che potremmo sponsorizzare sui social. Pensa che attraverso il testo di questo video dal quale magari si può generare appunto un infomercial, si può generare qualcosa di persuasivo che possa generare vendite, si possono generare grandi risultati. Ti porto l'esempio, c'è un video che è diventato virale qualche anno fa per un'azienda che, per una start-up che ha creato un progetto chiamato One Dollar Shave mi sembra, adesso devo recuperare, magari ti farò vedere lo spezzone di questa pubblicità, di questo video. Ebbene, tramite questo video l'azienda è arrivata ad una quotazione di un miliardo, cioè vendere l'azienda per un miliardo. Come è stato possibile? Tutto grazie ad un singolo video che è stato creato e diventato virale, questo singolo video chiaramente si è basato su uno script che è stato recitato. Tu pensa il copywriter che ha pensato a quello script. Cosa potrà pensare di guadagnare? Tutto perché chiaramente ha capito qual è la parte più profittevole, quali sono le sette aree più profittevili per generare liquidità come copywriter e si è specializzato in questi ambiti. Come vedi il copywriting ti dà la possibilità se ben studiato e se viene abbinata alla giusta strategia di generare grandissimi profitti. Ora se vuoi saperne di più sul copywriting i ticket che è quello che insegno io cioè la capacità di scrivere in maniera persuasiva come finalità quella di guadagnare di più per te e per il tuo cliente chiaramente allora sto preparando una classe con la quale intraprenderò un percorso di formazione di alcune settimane per capire come funziona per capire come funziona questo programma da cosa è costituito ti invito a cliccare sul link che trovi sotto o sopra a questo video a seconda di dove lo stai guardando e raccoglierai tutte le informazioni che vuoi ci sarà un webinar di presentazione al quale puoi iscriverti gratuitamente durante il webinar ti mostro tutto quello che serve per poter diventare un copywriter ai ticket se invece sei solamente curioso di capire come funziona il copy e soprattutto il copy di alto livello beh allora io ti invito ad iscriverti al mio canale e continuare a seguirmi a presto